Giole, fuoco! Argo numero due! Ando alla balanza! Fuoco! Argo! Argo! Ando alla balanza! Attenzione! Fuoco! Tre colpi partiti! Tempo di volo 31 secondi! Guarda ora, pute ora, pute ora, pute ora, pute ora! Il cero del mondo! Fuoco! Argo uno, l'auto! Due colpi partiti! Tempo di volo 31 secondi! Evviva! Mi hanno detto bombe! No, 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 no! Vano inserite! Prendeteci solo la bomba, pronti! Salva di protone e viva di tarredo con me! No, 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 no! Oppa lavorata! Argo del migliorno! Porti 봐! Non d'orbita! L'auto! Fuoco! Prendeteci solo la bomba, pronti! non dobbiamo fare più niente non, 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 non non, 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 non non, 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 non e non male che le nostre sono bianche e le loro sono nere ok anche se si comunica un dato diverso ci sono? vai tranquillo Mario io pure bolla 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 perfetto potete uscire bolla ci sono proprio soli ci siamo bolla 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 perfetto ci siamo cani inserire si 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 ח formul Zele ten in quale Tu sei tu, giusto? Ora vado io, fermato. Peppe, se mi hai chiamato ti sento proprio male. Mi sarei preparato di prima. Automatico? Capriane! Automatico? 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 Funciona? Già è? Mario, Mario, Mario. Sì. Sì. Sì.